Il fallo è stato di Corral, Diego Corral Davide Virgilio in lunetta Realizza Virgilio 4 punti per Virgilio Rimane 21 a 19 Ospiti in avanti, bomba da 3, sbagliano Rimbalzo preso elegantamente da Marco Caprari Davide Virgilio porta palla, 21 a 19, 21 secondi Giancarlo Di Simone, Virgilio Attenzione, bisogna andare al canestro Realizza a 9 secondi dal termine Rotondo, 8 punti per Rotondo E c'è l'ultima possibilità Finisce la gara, finisce il primo tempo 21 a 10, 23 a 19 Con l'ultimo canestro di Paolo Rotondo